Justin Bieber vince il Webby Award Altro giro, altro premio per Justin Bieber, che recentemente si è portato a casa il suo primo Webby Award. Justin è stato premiato con un People's Voice Award per il video Justin Bieber takes over Funny or Die, votato da numerosi fan. I Webby Awards, o premi Webby per gli amici, sarebbero in pratica gli Oscar di Internet e sono un riconoscimento attribuito al meglio della rete. Questo singolare premio è istituito dalla International Academy of Digital Arts and Science. Le motivazioni del premio riguardano ufficialmente l'eccellenza presente su Internet. Apportati a casa più premi è stato Zach Galifianakis, 41enne comico del North Carolina, apparto nel film Into the Wild, nelle terre selvagge, di Sean Penn, grazie alla serie web Between Two Friends with Zach Galifianakis. Fun or Die ha ricevuto otto premio, mentre altri vincitori sono stati Lisa Kubrick, che magari ricorderete per la sua presenza nella popolare serie Friends, premiata per Web Therapy, l'applicazione per iPhone Angle Beers e il sito del quotidiano New York Times. Ma non sono mancati riconoscimenti anche per Conan O'Brien, Snoopy Dogg, Jim Carrey, LL Cool J, Arcade Fire, Twitter, Skype e UL.